Ciao Marco, mi piacerebbe sapere da te quale dovrebbe essere il vero percorso di digitalizzazione della scuola e di alfabetizzazione digitale anche nella scuola primaria. Ciao e grazie. Oggi il digitale è un po' come la matematica, deve stare nelle tasche di tutti, deve servire per far di conto e deve servire per sapere usare le cose. Per cui insegnare il digitale non significa saper usare un foglio di calcolo o un word e basta, significa spiegare la vastità di questo mondo e così come la matematica inizia dall'uno più uno ma poi arriva fino alle equazioni, ecco che agli integrali bisogna fare la stessa cosa col digitale, ma anche se uno non dovrà diventare un matematico studierà le equazioni e allo stesso modo anche se uno non dovrà diventare un informatico studierà quel digitale. Per cui è importante che il digitale sia materia di studio corretta, in modo corretto. Non bisogna insegnare la matematica fermi col pallottoliere ai fagiolini uno e due e dire che abbiamo fatto matematica, bisogna arrivare alle equazioni, idem con il mondo digitale. E bisogna farlo in tempi anche stretti, perché soprattutto ai tempi delle elementari è lì che si imparano un mucchio di cose. Questo non ha niente a che fare con i giochini dei vari smartphone, è un altro mondo, è proprio imparare la mentalità, l'approccio computazionale, cioè se allora quello logico, alle cose. Così come l'informatica è materia, deve essere materia di studio al pari di altre materie importanti, come la letteratura, la matematica, eccetera, e non collaterale, anche la didattica, a prescindere dalla materia, deve essere ripensata in funzione del digitale, perché oggi spesso si prendono i libri e si trasformano in pdf e quello è diventato digitale. Invece no, cioè se si studia la storia, così come c'è il libro di storia, deve essere corredato anche da un supporto multimediale e non deve stare nelle mani del docente a essere più o meno digitale, deve rientrare nel normale percorso di apprendimento, che comprenderà sia la parte scritta, perché è importante, il nostro cervello apprende in modo diverso e forse più approfondito, ma anche quella visiva e anche quella interattiva, ci sono gli ipertesti, l'approfondimento delle cose, l'uso degli smartphone o dei tablet a scuola nel modo corretto, insomma c'è molto da integrare ed è bene che lo si faccia in modo sistemico, come dicono quelli seri, e non lasciatelo nelle mani del docente più o meno digitale, più o meno aperto, più o meno innovativo.